C'è un uomo che sta per rubare il mio furgone. È stata una telefonata a dare l'allarme ai carabinieri di Farini, subito intervenuti per bloccare il ladro, che però ha fiutato il pericolo ed è scappato alla guida di una Clio. Ne è nato un rocambolesco inseguimento da Farini fino a Bettola, dove l'abilità dei militari ha consentito di raggiungere e bloccare il conducente della Renault. Si tratta di un romeno di 32 anni senza fissa di mora con numerosi precedenti. Anche l'auto su cui viaggiava è risultata rubata così come un cellulare e un giaccone che erano nell'abitacolo, tutti dei proprietari della vettura di Busseto. Lo straniero è stato arrestato, con sé aveva anche un kit da scasso con numerosi attrezzi, processato per direttissima ha patteggiato un anno di carcere. Grazie.